ah no no l'ho fatto no ma no no puoi guardare ragazzi questo video con i miei sorelli è veramente qualcosa di incredibile perchè mi sono impanicato un sacco ma comunque lasciate like se volete un altro video del genere arriviamo almeno a 4000 like iscrivetevi e attivate la campanellina eeeh come mi ha venuto in questo il suo video e oggi sono insieme a mia sorella perchè appunto questa è una sorta di challenge se vogliamo chiamarla dove lei andrà a sciopare al posto mio allora tu sai no forse lei ci gioca a fortnite ok sulla ps4 lei ci gioca non l'ha provata eh vabbè c'è metà mappa innevata anzi ieri il 25 la mappa era completamente innevata appunto perchè era natale adesso però è metà innevata finitamente sono uno che scioppa poco come si può ben vedere no dalla skin io sono uno che scioppa poco specialmente anche dai vbucks che stanno dietro a sopra a destra con quei vbucks andrai a comprare a scelta tua proprio ok una sola cosa e poi fare una partita e poi dopo quella partita oh no ti prego no già mi immagino no ti prego i miei vbucks mi soldi diventerai una bellissima nooo allora quindi sarai il tuo praticamente obiettivo in questo video sarà proprio quello di vedermi imprecare ok ok perché magari ogni tanto prendi qualcosa che a me piace ok assolutamente guarda che bella la carrozza di cristallo adesso io non guardo ok e tu andrai a spendere qualcosa una sola cosa ok va bene ti prego no 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 dimmi che non è quello che penso io dimmi che non è quello che penso io ti prego che cos'è da stile alla corona dell'inverno fa parte del sette paesi delle meraviglie invernale che bella ma che dico ma che sei te quella cavolo ma che è sta cosa ok adesso andrò a fare una partita con questa che sei bella e che sei figa ma che cos'è uscita dal mondo di frozen sembra le auto reggenti oddio sobracci di rossetto blu ooooh perché ma perché hanno messo proprio questa cosa oggi 2000 per questa cosa che stifo ci vale tutto ci vale io volevo il pupazzu di nero cosa volevi tu? il pupazzu di nero possiamo magari possa completarla ti prego ti prego il pupazzu di nero io ti odio dai non è vero non è bruttissimo sto skin graffissima dai dimmi dove scendere almeno te questo dimmi pinnacoli pendenti ah ma proprio mi vuoi morto subito voglio andare proprio a spendere subito i b-bugs grazie ti voglio molto bene madonna che cavolo mamma mia comunque guarda che figa vedi la neve conta che tipo ieri era completamente nevata sì sì era fighissimo ieri peccato che non l'hanno lasciato e poi è una novità di oggi cosa? sì e non l'hanno mai messo credo ed è una novità di oggi tu me l'hai presa Elsa di Frozen no oppure l'altra adesso parte Lerigo no 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 copiretta manetta che non voglio chiudere il canale grazie eh sì ciao io sono messo nella cacca dove vado dove vado dove ecco le finestre fitte ah devo trovare qualcosa ecco dai dai già iniziamo bene già iniziamo bene non è vero per nulla so io preferisco più che altro mi faccio la pompa beh appunto sì ma se come se dalle volte non lo trovi più ad assalto dorato sì vabbè tu lo sai che hanno messo anche le skin per le armi vero guarda vedi che è rossa guarda com'è che verde eh già eh già figo vero le puoi personalizzare eh sì proprio così è figo 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 allora vabbè pistola ok le solite cose ma come è che ancora non è entrato nessuno qui visto che si è piena con i pendenti appunto me lo sto chiedendo anche io lo sai eh lo so anche io me lo sto chiedendo onestamente ma ci sarà qualcuno che ti spara in testa grazie no magari no dove ora spunta da 280 metri immagini oddio questo quest'albero l'ho spaccato in sta qua dentro ho paura eh sì eccolo e qua mi sa mi sa che sta arrivando eccolo ammazzalo 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 è calda ti prego dai ah 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 ammazzalo 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 no ma no cosa dovresti essere felice che mi ha ammazzato vabbè che c'è ammazzalo ammazzalo ah tu per me lo dicevi sì ma cavolo ma poi ho trovato solamente una mitraglietta del cavolo bianca cioè niente allora è una persona è brava a giocare è brava a giocare con tutto magari anche avere un po' di culetto quelle volte nel trovare le cose giuste sai come tu l'hai detto il ah questo qua c'è dato le vischie ti prego hai divietato di me i miei bbox oddio hai già comprato hai già sentito posso perché no i miei bbox cos'è è cenere che schifo dai ma sembra il treno ma sembra ma sei lì tipo la principessa il cenerentola con la carrozza magica ecco questa guarda anche le scarpette quelle di cristallo no vabbè ma io ti odio io tu no dopo questo video non sarai mai più mio sorello allora vediamo un po' dove andare ora vi faccio andare in un posto un poco più tranquillo così è il tempo di prendere le armi e tutto ok è uguale qua vuoi che vada va bene ok è bello quel posto perché lì c'è un sacco di case un sacco di case esatto Giuseppe sarebbe il suo ragazzo che tra l'altro il suo ragazzo è già fatto un video lo sai ti ricordi che ho fatto un video con Giuseppe? Cos'era reaction ossarrotte? Sì forse sì forse sì ma no ti ricordo devo farla sai con chi lo saprete nel prossimo video non lo diciamo allora sì allora dai io sto devo buttarmi da quella parte oddio po' uno due dai aprilo 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 ti prego no ora no magari fammelo fare bello fammici arrivare che cos'è sta cosa cos'è poi bello guarda tutto magico vedi gli effetti guarda gli effetti sì esatto guarda gli effetti già il pupazzo di neve mi sa che me lo so scordato perché hai speso un casino di cose 18 costava il pupazzo di neve questo costava 8 ho già speso 2.800 madonna 2.800 madonna dai 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 sono troppo triste sono troppo triste buono buono dai sì buono buono dai allora vediamo quanto duro almeno in questo game vediamo quanto duro se arrivano i primi top 10 mi prendi il pupazzo di neve ci sto va bene dammi la mano vedete che vuoi in 3 secondi no 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 non mi è piaciuta sta scommessa perché può essere che magari me lo potevi prendere anche quando non l'avevo fatto cavolo no ah tipo con la calamita sì con il magnete esatto tutti di piombosi tutti di piombosi infatti vabbè con la corona tutta impaiata però è un buon metodo per muoversi sì e i trasporti ci sono ancora i teletrasporti sì sì le fessure sì ci sono ci sono la bella cosa bella di fortuna è che fanno sempre continui giornamenti quindi è sempre quando c'erano i mostri che dovevi uccidere ti ricordi bellissimo bellissimo no in realtà erano rompi rompevano un po' le scatole però c'erano anche tutte le sottomissioni sì sì quella era bella ragazzi ho completato tutte le sfide settimanali tutte devo solamente completare quella missione lì sopra che sarebbe tipo arrivare tipo nelle top 12 a squadre che vabbè lo faccio in tempo zero sì sì ho completato tutte le missioni che potevo fare tranne giustamente quelle che tipo richiedono per forza di fare determinati puntaggi ex ok va bene aaaah posto se non vinci a questa ok guarda quante cose stai trovando ok questo qua si questo lo prendo posto di questo che è più forte va bene allora ho trovato per ora solamente una trappola perfetto ok sono anche dentro la safe perfetto dovrei almeno vorrei ritrovare vorrei far no vabbè ero ben utili vorrei trovare vorrei farti vedere l'aerico vero che almeno così lo vedi niente dove si prende da qualche parte sicuramente si trova così tranquillo si 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 trova da lì si 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 lo prende due tipo c'è sì no in quattro lo puoi prendere puoi metterti nei lati dei provati provati guarda guarda ci sono con l'aggiornamento giustamente di natale ci sono i regali che piazzando i regali ti danno tipo le cose leggendari all'interno di questi ammattola questo bastardo a buon muore dai 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 questa è una cosa inutile l'antica si è vero 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 confronto dai che ti c'è tutto vai 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 io faccio proprio schifo hai perso si ascolta il miseria per allenamento ok ma ci giù ma se ci giù di sempre ragazzi lui non dorme perché zitta vai è vero giochi sempre compri e basta spendi i miei bbugs spendi i miei sorsi dai ancora nel 2750 ti prego ti prego ti prego compra quello che voglio io compra quello che voglio ti prego ti prego ti prego ti prego ragazzi lo dobbiamo accontentare si però non è stato bravo ha perso contro uno che neanche era schinnato oh no sto prendendo qualcosa che non è quello si no basta ti prego sembra tipo una bacchetta magica lo è lo è questo è il fatto noi non voglio guarda aspetta però guarda tu hai ancora 1950 soldini quello costa mille e chi me lo dice che non vai a spendere 1200 per l'incursore dal naso che non è niento commando c'è no no però dai dai mettitelo ho tutto il set completo di sta principessa del cavolo ce lo so io questa cagata guarda sta ridendo della mia skin sta ridendo della mia skin adesso arrivano ecco là allora là c'è babbo natale che sta arrivando con la slitta lì poi c'è un altro che mi sa che è arrivato nella casa in cui volevo andare io non lo so no non c'è ok perfetto allora adesso vediamo se c'è quella cesta sì c'è la cesta perfetta sento dei rumori bruttissimi non ti prendi 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 ok o che cosa è questo non lo so ma dove sei io avevo l'arma del cavolo fai l'ultima scioppata l'ultima e basta sì quindi deve stare dai non ti faccio soffrire sì ti prego ti prego prendi lì che voglio adesso sei indeciso di fare la stranza male sì grazie e poi andavi sotto e non te lo riusci più a comprare eh cavolo mio dio con 350 vbucks non posso prendere più nulla guarda sono tutti i 500 peccato comunque volevo prendermi qualcosa sotto per me vabbè comunque dai è bellissimo è fighissimo guarda che figo va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come se mi interessa il polino di su mi raccomando seguitemi su instagram piaccio spese al trattino basso è sul nuovo canale telegram perché ho aperto un nuovo canale telegram che è questo qua è il nome mi raccomando entrateci perché farò scriverò delle novità per quanto riguarda il canale iscrivetevi al canale attivando la campanina delle notifiche e che dire noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video almeno arriviamo a 4000 like se volete un prossimo video nel quale mia sorella shoppa al posto mio ci si becca ciao ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti